Musica Ah, togliera! Togliera ci sarà lei e tutta la sua morte. Ah, 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 ah. E certo che magari io soggile, quando non ci sei noi. E quando ci sei noi soggile e allassamo vedere che è meglio. Ma una volta che la corsa io. Ha, quanto sacrifici per crescere a questi figli. E poi a l'ultimo stanore mi fanno rire. Una volta quando muore un papa. E quando mi fanno rire. E quando mi fanno rire. Sono sempre le discussioni. Tutto il papa. E già spesso i buchieri ragazzi. Ha! Aiutami. Non c'è la parete a me. Lascia la perdere che non è cosa per te. E non muorirà mia. Non muorirà mia. E' tutta l'aria. E' tutta l'aria. E' tutta l'aria. E' tutta l'aria. Buon appetito. 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 Buongiorno. 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 Io ci dico una cosa, ma soggere, mi faccio la voce. Quando andiamo a cercare il mare d'amore, dove c'è la ragazza? Scusa che mi ha detto la ragazza, ma c'è la coabitazione. C'è la coabitazione, e alla sera, se mi metteva nel letto un piccato nel muro, io non lo sapevo come posso fare a fare nascita e bambina, sempre le gusta. Perché la ragazza non può risciutare il povero. Sì, è un mare che un'altra vita che io faccio. Non mi stai venendo. Tu stai bellezzata, eh? Ma tu sai che non mi stai venendo? Che ne sa, io non mi stai venendo. Ecco, abriccidate. Ora, ora, hai parlato con mamma? E tu sai che non mi stai venendo, vero? Chi da che va a miso pure. Chi da, che ha chiestato sangue tutta vita, lavando cesse, scale, e lavando piatti, al di mare faccio figli. Ma perché ti stai buttando tutte queste cose? Perché tu, mamma, ti stai buttare il rispetto. Perché se no, faccio tutto l'altro. Vedremo, vedremo. Facciamo la prova. Ehi, compare, non mi stai venendo, non mi stai venendo a vedere. Ehi, compare, compare, non mi stai venendo così. Avanti, state calmi, non mi stai venendo così. Sapete che ti dico? Ehi, compare, non mi stai venendo così. Ehi, compare, a voi, a vostra moglie, ci avete voluto sempre bene. E ora, per qualche cosa che a voi ha detto la vostra moglie, siete tutti arrabbiati. Non va a fare giusto, non va a fare giusto, compare. Alla, state un bacio, va. C'è da che per i vittanini. C'ho, c'ho. Eh, compare, gli staccati, gli altri a vittanini. Perciò, c'ho, c'ho, un bacio da voi. I vittanini, i vittanini, va. Ehi, compagni, grazie. 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 Non è possibile, così fosse possibile, con la nipote che parla dei miei maci al primo foco. Ma che perlora è già venuta? Sta storia. Senti, bello, è una prova contraria, un fuoco, un tubo, sempre la macchia, perché l'altro giorno la troveglia un maromenone di traspattatura, e spazio, casuglio, sprecura, e tu, sempre cantifegno, sempre cantifegno, ma si, mi girano, dite che non ha io, lo sai che faccio? Senti, bello, non lo sai mai la tua parola, l'emmenicidio, ma non lo sai che significa? Tu, marito, ammazzano i ghiè, ma non fanno mai, tu, non sei capace, perché se non cazzo, se non cazzo, cazzo! Buongiorno Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Se invece. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altrimenti non c'erano bene, non c'erano bene. Non c'erano, non c'erano, non c'erano mai. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 Ragazzi, mi dispiace che stiamo andando avanti in una maniera disordinata. Spero la prossima volta di gestire qualsiasi impegno, anche se vengono nel proviso. Dovremmo rimandare, altrimenti con voi non riuscirò mai a fare nessuna cosa concreta. Io non lo so se si riusciremo ad andare avanti. Per cui non mi impegno in delle cose che abbiano un loro svolgimento troppo lungo. Non mi impegno semplicemente un esercizio che voi potrete vedere a casa, dove l'abilità sta nella flessuosità del vostro corpo. Ma se ne faremo adesso un esercizio semplicissimo, che però dovrete ripetere a casa lungo, perché è basato sullo spostamento che un mago riesce ad imprimere alle proprie ossa. Vedete, io adesso vi farò vedere come la forza della magia riesce a trasferire un ginocchio da un posto all'altro. Però lo devo fare in una maniera diventina, ta ta, perché altrimenti il mio corpo, che fra l'altro non è un corpo giovane come il vostro, potrebbe subire delle conseguenze. Quindi attenzione, io ora, con una magia improvvisa, dirò alle ginocchia, anche se non pronuncerò nessuna formola, ma loro lo sanno, che si spostino da un posto all'altro. E poi via! Mi è piaciuto? Bene! Allora, io vi metterei un applauso secondo voi! E' bravo, bravo! No, no, Sara, ma che c'è ancora? Non riesco a fare nessun esercizio. Signore, signore, insomma, non si riesce a fare. Ascolta, Sara. Dopo vi dirai se sono le giovani o le anziane, io ho capito. Senti, accompagnatevi, però assegna loro la giornata. Per quel giorno non prendiamo nessun impegno. Altrimenti io non riesco a trasferire neanche la prima parte delle cose che ci sono qui che io so. Ragazzi, vi chiedo scusa per l'ultima volta. La prossima volta sarà una giornata totalmente dedicata a voi. Salutate il pubblico. Grazie, grazie, signor Marco. Signor Marco, signor Marco, signor Marco! Come mai così? Così siete venute di così tanto in attenzia e poi di così presto? Siamo venuti qui, evidentemente. Siamo venditi, l'ho fatto delle cose che ci sono. Scusate, ma parlando così, cosa credete che io possa capire? Per favore, una alla volta. Ditemi di che cosa siete l'altra. Signor Marco, siamo venditi e perciò lei ha fermato. Io, io, io cosa? Io cosa? Prima! Prima che! Prima che! Prima che! Prima che! Prima che! Che non ci soldi! Non volevo che non ci soldi morono! No, no! Non volevo! Oh, oh, oh! Signor Marco, non volevo! E perciò lei, lei ha fermato tutti i cosi! Così, non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so! Così, non lo so! 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 Ma se voi mi avete chiesto con tanta condizione un intervento che avete sovrumato, io adesso, anche a me, mi dico, shhh! Perché vi allontanate? Io non vi faccio nulla! Io non so se ce la facciamo più a tornare indietro! Oh, ma... Viva l'armonia! Viva l'armonia! All'inferno! All'inferno! Viva l'armonia! All'inferno! Oh, Maria! Oh, Maria! Oh, Maria! Viva l'armonia! Calmate! 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 Ma voi veramente credevate che io volessi fare morire qualcuno, anche se volete venire e se... Ricordatevi che io sono per la vita e mai, mai, non dovrei essere per la morte! Sì! 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 Ma è bene! Ma è anche male! Evidentemente che non può fare le bene e le male! Si, però, guarda... Mi sono nei cazzuti! Mi senteto veramente male! Veramente! Ma che stai sentendo tu male? Vedete! Vedete! e non potevo fare dell'altro io non avrei mai messo in condizione nessuno di morire c'è una cosa che devo dire meno male per voi che vi siete ravvedute in tempo altrimenti non so come mi sarebbe andata a venire per me potete anche andare signor Pagli ma allora visto che tutti i costi si stanno risolvendo e che fa? le ruote sopite ma come potete pensare di cose del genere voi per quello che avete fatto avete pensato di fare dovreste pagare più di quelle banali cento euro ma non a me per quanto mi riguarda io mi riprendo per il disturbo fisico e spirituale che mi avete legato andate via e non fate di più vedere lascia di indovinare ci sono altre due signori facciano entrare legati ma no no non fate di entrare legati a questo punto io credo che avremo altre visite ma faccio sentire ah eh già sei il mago e lo sa già brava brava Sara vedo che impari sulle virtù del tuo mago c'è qualcuno? resisto il mago ha previsto il mago ha previsto quello che sta dentro per il mio sa che mi ha fatto ma brava ti siete anche bella per un attimo si si oh no se non la io io lì non posso tacci io non posso tacci ma brava tutta ma carezza ma ci non manco ma lei veramente di me mi faccio ma avevo a corsa tu mi faccio No, no, un momento. Signora, lei lo faccio pure, però devo dire. Non voglio soltare, si tranquillizzi, almeno vedervi in una situazione di pace familiare raggiunta, questo mi dà una grossa soddisfazione maggiore degli introiti della sua economia. Però vi devo dire che la vera magia si dà l'amore e quindi l'amore non può essere pagato ma l'amore si paga da solo riversandolo sugli altri, l'amore si paga con amore. Signora, se io mi sono spiegato bene, se sicuramente gli effetti raggiunti, parlatemi fra di voi e mettete a fuoco, come dicevo prima, l'essente, l'amore ma non si brucia nulla, l'amore ricambiato. Ecco, iniziamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.